dobbiamo prendere il camioncino preparato? questo qua pare che ancora ah è vero io non ho capito da che cazzo dovevano andare fai o e poi clicca sul binocolo dobbiamo andare nell'angolo che fa? vabbè easy se non si bagga tutto ahahahahah l'hai detto se non spona un carro armato in cose coglioni ecco porca puttana vai ah 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 Mamma mia... Scavalca, pezzo di merda! E devo andare in un pezzo diverso Sì, finiamo noi la mission Oh! Te che l'hai fatto bene Sì... Hai preso la terra Mi sa che devi spostarti che non hai una linea di tiro vero Cazzo! Dai... Merda No, no! Fermo! Sta pezzo di merda Adesso che non sono specializzato Ok, niente Questa missione è proprio un fallimento Sì... Quanti cazzo di spagnoli sono morti Rusta Questo fiume fantasma Oh no Attento che se finisci la stamina in acqua muori Ora mismo, signor No, no, no! No! Ma... Ma come hanno fatto a vedermi? Ma sti fiume di merda Sì...